Oriana Marzoli, la celebre ex-geffina sta affrontando polemiche e critiche dopo la sua esperienza al gran hermano VIP. Critiche che le stanno piovendo da ogni dove, dalla Spagna e anche dall'Italia, ma tutto questo non la sta fermando e non sta nemmeno fermando il suo amore per Daniele. Benvenuti su Reality Italiano, il tuo canale di notizie sui reality e sul gossip più intrigante. Oriana lo ha scritto pubblicamente nelle sue storie Instagram e dedicando tutto il suo amore a Daniele Dal Moro. Quanto ci sia di spontaneo non lo sappiamo, ma di certo la dedica ha messo a tacere le critiche sul loro amore. Ma prima di immergerci in questa dolce storia d'amore, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nemmeno un aggiornamento. Negli ultimi giorni, Oriana Marzoli è stata al centro dell'attenzione mediatica, ma non per le ragioni che potreste pensare. La sua avventura al gran hermano VIP non è stata un cammino facile, ma in mezzo alle critiche e alle polemiche, c'è una luce che brilla, l'amore per Daniele Dal Moro. Qual è la vostra opinione sulle relazioni in campo mediatico? Credete che Oriana e Daniele siano una coppia autentica? Oriana ha condiviso sui suoi social una serie di scatti che li ritraggono insieme, dalla casa del GF VIP alle vacanze estive. Ma cosa rende queste foto così speciali? Una romantica dedica che ha scritto per Daniele. Nelle sue parole, Oriana ammette che non sono perfetti e che non fingono di esserlo, ma c'è un sentimento reale tra loro due, un sentimento così grande da mettere a tacere tutte le critiche. Oriana ci racconta come si sono conosciuti nella casa del grande fratello VIP, una delle esperienze più speciali della sua vita. Daniele è stato uno dei motivi che ha reso quella esperienza così speciale. La loro storia non è stata senza alti e bassi, ma è stata reale, autentica, e questo è ciò che conta di più. La dedica di Oriana termina con una dichiarazione d'amore sincera per Daniele, sottolineando che non sono la tipica coppia, perfetta, che si vede in giro, ma ciò che è perfetto è il loro amore. Nonostante le differenze e il carattere forte di entrambi, si amano per ciò che sono. Con questa romantica lettera d'amore, Oriana Marzoli ha messo a tacere le critiche e ha dimostrato che il loro amore è autentico.